Grande sforzo, grande partecipazione ma anche grande disappunto per gli organizzatori di profumi e sapori d'autunno. La festa di Biumo che all'apertura domenica mattina si è ritrovata invasa e parzialmente ostacolata dalle tante auto in sosta. Abbiamo trovato le strade aperte e siamo dovuti andare noi con i vigili a chiuderle quando invece il servizio doveva essere stato fatto dal comune. Quindi il comune non aveva transennato diciamo così? Il comune non ha transennato e non ha messo i divieti per poter non parcheggiare le macchine. E' stato il grosso problema per cui abbiamo dovuto mandare indietro delle bancarelle che avrebbero dovuto avere la postazione dove le macchine sono parcheggiate da ieri sera. Ripetiamo, la festa comunque si sta svolgendo e rimane un bel appuntamento popolare e storico. Però è un gran peccato, un danno a cui si aggiunge la beffa perché gira voce che il problema sia legato al fatto che il comune abbia finito le transenne tutte utilizzate per la gara ciclistica della Trevalli. Ma è uno scherzo o parliamo sul serio?